Alcune questioni che riguardano sempre i diritti civili, poi parliamo della flessibilità, sono poste con forza anche dalla lista Arcobaleno. Abbiamo visto per esempio oggi sul giornale di rifondazione comunista con grande forza la questione dell'incendio a un locale frequentato da gay a Roma e la denuncia, cioè la gran parte dei politici ne parlano, si indignano ma per finta non fanno nulla. Da questo punto di vista ci può essere una sintonia anche con la sinistra Arcobaleno della vostra campagna o no? A me fa molto piacere che la sinistra Arcobaleno conduca queste battaglie. Devo dire la verità che in Parlamento nei due anni che abbiamo alle spalle in molte occasioni non c'è stata, ma diciamo c'è sempre tempo per cambiare. Beh, con Bertinotti c'è una differenza molto grande. Noi siamo socialisti e lui è comunista o comunque diciamo una sinistra più radicale... A proposito, la sinistra Arcobaleno ha fatto una lettera ai giornali, e anche questo è un fatto politico, in cui si dice non ci chiamate sinistra radicale, smettete di chiamarci sinistra radicale, noi ci chiamiamo sinistra Arcobaleno. Questo va nel senso di... Beh, loro sono fortunati perché a noi socialistici capita che non ci chiamano. Nel senso che proprio sulla RAI lo dico con affetto, perché credo nel servizio pubblico abbiamo contestato trasmissioni come Ballarò anno zero che hanno semplicemente cancellato i socialisti dai sondaggi. Noi daremo, se lo ritiene, un paio di vostre mitiche in diretta. Questo è un impegno che possiamo prendere, grazie, è un impegno dovuto perché vogliamo essere... La cosa importante è che siano gli elettori a scegliere sulla vita dei partiti, non i direttori di giornali, i conduttori televisivi, questa è una regola fondamentale della democrazia, se non ci si è è difficile che gli elettori possano decidere. Diceva la flessibilità. Se ne è parlato molto, soltanto in Italia flessibilità è sinonimo di precarietà, perché non c'è una politica di ammortizzatori sociali come c'è nei grandi paesi europei, Germania, Francia, Gran Bretagna, cioè chi fa un lavoro flessibile diventa precario, perché lo Stato non è vicino. La risposta non può essere dire trasformiamo tutto il lavoro precario in lavoro stabile, bisogna creare degli strumenti degli ammortizzatori sociali. Noi ne abbiamo proposto uno, il buono formativo, che è in vigore in tutta Europa. I socialisti su questo hanno fatto una politica negli ultimi anni molto forte, cioè chi svolge un lavoro flessibile e lo perde deve poter seguire un corso di formazione per un anno o due, che lo Stato garantisce e paga, e al termine di questo corso con un nuovo lavoro deve accettare il nuovo impiego. Questo avviene in tutte le grandi nazioni europee. Soltanto in Italia chi vive con un lavoro flessibile si sente precario anche nella vita. È una grande frontiera, io penso che una forza riformista, uno schieramento riformista deve affrontare questi temi. A proposito del precariato, Veltroni ha detto che ogni lavoratore precario dovrebbe avere 1000-1100 euro al mese, Berlusconi ha detto che questa proposta è folle, perché se si va ad un salario minimo di questo genere aumenterà il lavoro in nero e saranno ancora di meno gli imprenditori che assumano. La posizione dei socialisti su questo? Io penso che il problema sia quello di garantire a chi perde il lavoro, giovane, e lo svolge flessibile, cioè fuori dai contratti, ma anche probabilmente ai lavoratori della mia età, 50 anni, è difficile per una 50 anni trovare un nuovo impiego, lo Stato non può proporre semplicemente uno stipendio, deve proporre un bonus formativo. Perdi il lavoro, ti formiamo per un altro impiego e nel corso dei 12 o dei 24 mesi ti garantiamo di poter vivere. E alla fine questa è la strada giusta. In generale poi, io sono molto preoccupato della campagna elettorale, perché Veltroni e Berlusconi si presentano dicendo noi creeremo una nuova Italia, un nuovo sistema politico, una grande novità. Per farlo dovrebbero dare l'esempio. E cioè se si presentano in campagna elettorale dicendo nuove spese pubbliche, nuovi interventi pubblici, devono anche dire, come accade in tutto il mondo, da dove i soldi si prendono. Non si può dire agli italiani soltanto questa è la tabella delle uscite, bisogna anche mettere la tabella delle entrate. Se vogliono dare un contributo per una campagna elettorale non fatta solo di propaganda, devono presentarsi così. La cosiddetta antipolitica. Ieri Fiorello ha detto, è nata una polemica, se i politici non fanno qualcosa di concreto per rimuovere quella vergogna che Napoli non votiamo, bruciate le schede. Io eviterei di aggiungere roghi a roghi, perché diciamo dei rifiuti a Napoli ce ne sono tanti. Però quello che è accaduto in questi mesi è drammatico. L'immagine, la realtà della campagna di Napoli è drammatico. Io vedo due responsabilità. Certamente Bassolino Iervolino, cioè chi ha governato città e regione. Da questo punto di vista io sono un po' infastidito quando vedo i grandi leader del Partito Democratico dire a Napoli qualche d'uno deve assumersi le responsabilità. Sono i loro uomini, non le loro donne, e dovrebbero cominciare col dire intanto noi li mettiamo fuori. Ma c'è una certa responsabilità anche nazionale, perché vede, se per 13 anni i governi decidono che per affrontare il problema dei rifiuti a Napoli bisogna nominare un commissario straordinario, è un modo per togliersi dalle responsabilità. Togliere dalla responsabilità i sindaci, ma anche il governo nazionale. Io non credo che si possano nominare per 13 anni i commissari straordinari in una città per affrontare il problema dei rifiuti. È un pessimo modo per governare.